musica 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 ma che bello eh il kalashnikov è il mio che mi ha preferito questo qua guarda lo sapevo vai in live check a live se ora ora no perché non ho detto a nessuno che faceva qualcosa quindi non avrebbe molto senso no porco nooo guarda dove sono guarda dove sono arancione finchia ma mi ricordo a killer che sta registrando registri? si si questa la registro scrimmi guarda dove sono eh tu sta ma chi sei? lond lond inizia a scapocciato ok bella raga ehm giocamera in tss? giocamera vieni su tss ok ragazzi siamo due in vini io vado su balconi io vado su balconi si si va bene su balconi decidete se vi bastare una viene in B decoy B B guys se mi data liquido il tss si 199 160 2 punti oddio che headshot che li ho fatto bella power mi hai salvato il culo se poi non ho scritto eh bella fluscia bella fluscia bella fluscia l'ho fatta l'ho fatta tranquillo intanto l'ha data a me la cosa ma gli ho fatto due hit per 69 di danno e non capisco come è possibile random vadoooobbo dove sa se sto guardando la foto no ma loro non ci hanno un cazzo ma andiamo mid e facciamo una pick mid si infatti non lo faccio io porca breve voi ci ho pensato non mi distanto io salto eh io salto aspetta fai uscire a me prima vai bella si sta vedendo apertura vai salto e via 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 e vai via meno da 21 li ho fotti c'è un altro eh qua qua ha preso l'arma sua è qua dove è morto il secondo no no io non avevo l'arma io non avevo l'arma comunque no l'ha tirata più che altro ok no io proprio non avevo l'arma se non ho compratto oddio che case che mi ha fatto uno è il balcone dove è la bomba? dove te... dentro qua ce l'ha lui dentro qua è andata a parlamento dai fluscia un altro eh fluscia power un altro HP si davvero scelte le levate te cazzo vai quando fai la bomba che volevo fa' oh bella sta spray arata dai da cazzo mi do malissimo ma tu te le hai sbagliate sono un po' da cazzo allora non l'hai capito gli spray non è che si fa' allora non avevano non avevano buiato un cazzo no erano tutti ne... ok eh anche il terzo round vado balconi anzi no li potremmo lasciare solo sulla sinistra ora che non è male in secondarie mid ehm? perché il rush up? in secondarie mid sarebbe perché sei l'hack se non rushi siamo quelli senza altro ma c'è la tep si vai vado io con... vado con... i need help purple purple arriva no uno ti spawn a rampe non lasciate raga non lasciate non lasciate non lasciate non lasciate allora power power by mid power by mid power by mid power aspetta zitto si fammi giocare no vedevi il mio m4 bello no non è il mio bush l'ho sentito lì c'è il mio m4 lì c'è il mio m4 oh cazzo buono ok c'è uno? no non lo so uno era in tier amp con... no dico ora vengono bene me li faccio tutti e due ormai non ti fai neanche uno comunque va bene uno hai eh non hai tanto gigi è vero non me ne faccio nemmeno uno non me ne faccio nemmeno uno di tanti tre li ho fatto perché non ha passato da dove orca droia aspetta c'è la flash ma no no che ciocca mi sa che è la flash che aspetta sta pushando uno eh sta pushando uno eh oh 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 buissimo se vai esso il mio cadavere c'è un m4 e gesù cristo pure sopra e non è tutti io tutti io tutti io non è il mio cadavere c'è un mondo eh a me lo fa così ce la fa la dmf7 un destra non lo hai su chiesti è vero no 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 lo so lo so che ho messo chiesti su ct c'è il mio m4 ct c'è il mio m4 ehm la per che ha messo il mio canale mi sembra quello che ha messo il ts perchè non zendo alcuna inv dopo 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 mi glielo dà a finire tutta sta in mezzo move it move it ed io comunque oddio che lunga non vuoi usare due mob pagina non mi sono morto siamo morto però il giocamer non mi aiuta per forza non devi più andare in macchina portano troppo uè uè che no te ho anche una cosa ma una molotov devi stare scoperto su miti ma devi disappassare altrimenti io ci muoio male c'è il mio m4 è la seconda in mid mi lasciano solo in B si, 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 vai, vai no, non lascia l'aria rimani, rimani, vabbè, ce la facciamo eh, meno 66, bomba, bomba, ragazzi vieni, 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 banana ah, dove c'è più eh, ho capito, lo c'è più, ma ne scontri eh, gli ho fatto il 66 in 4 ah, uno? si, colpi 90 buoni lamponi dai, uno va da destra o uno va sin vai, si, poveri fai in pit e uno in share e uno in site davvero pitta, 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 pitta pitta, 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 pitta non ci vedo oh, nooo, che ti hai fatto? no problem ma perchè mi fai ste malattie che dite faccio force buy o sugo scusa c'è 4254 prendere l'M4 vabbè prendi sugo eh no perchè era più vabbè niente per la niente tranquilla c'è stiamo noi vado a balcony che mo ne ho perso tutto vabbè si si no stanno di nomine con attenzione vabbè davvero c'ho mai niente eh sono due sono due hanno comprato perchè sono quelli la che sono rimasti b una mid una b attenta gente b spero sia una femmina oh 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 sotto 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 vabbè la mano questa p***a ok stanno qua sotto la la ma sono impegnato per fuori grazie 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 cazzo di paura mortacci tua ti ha venuto dietro ti ha venuto dietro è inutile che stai con le due sto venuto vabbè stanno lasciando via ok paura attenzione a qui bella gio andiamo andando da dietro vai sì sì vai 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 insieme a qui la partagina però vieni eh sto già si una è la tua destra io pure che uno sia qua sotto no c'è un pollo che è morto Lo lo di mid me lo faccio Le cappe me le rubo L'altro ce l'avevo Che vogliamo fare? Sempre stesse posizioni Tu devi stare con me in mid Perché non riesco a gestirla da solo Vabbè Bene vengo anche io se volessi Ma te 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 Mi sono andato per aiutarti un po' con la flash Hanno busciato troppo Niente stanno da tutti in lunga In A attenzione dal site Ah Però che è spregliata Ragazzi Uno alf e uno sta sul punto a piazzare Uno sta alf life La 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 Che spagliato di merda E' poca vita questo Eccolo Bravo C'è un altro C'è un altro C'è un altro Durissimo dio Sul plant Sul plant Ci ha provato C'è creduto Se qualcuno c'è i soldi Mi prende Se qualcuno c'è i soldi Mi prende una k Dopo via De la k Su short Ho fatto fatto Ho fatto così Grande Così mi spendo Se c'è i soldi Mi fa un piacere Sì sì Vorrei Grazie Ok Sì C'è l'unica cosa che non mi sta a piacere C'è sta un po' troppo casino C'è sta plant che urla troppo Vabbè ma io urlo solo quando è finito Il round Sì ma il farsi nisce Eh facile Il m4 basilisco quanto è bello Madonna Ma me mi piace Vado un balconi Vai Vai Uno tirano 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 Ok Eccolo Mettiti qua dietro Mettiti qua dietro Sono due Ce ne sono due Mi pushano in due Non andare Non andate Ah merda Ce l'ho qua Eh niente Quello lì no Però regà Non ce l'ho fatta Mi hanno pushato in tre Ma pushato sulle scale Io vado da qua Io vado qua Scrimmi occhio Guardo io Appartamenti guardo io È salito È salito Bravo Tutto dietro Tutto dietro Scrimmi Torni Torni Flashbang Quando B Sono due Quando B Sono B Plantano A un momento 2v3 2v3 1v3 Mera 87 87 87 3v3 K Buono Ah se ne ha tornato a banana Non penso sia così furbo Scrimmi Provaci 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 devi muovere Time to clutch 1v3 E dai E dai Muovete Porco 2 Nice try man 6-1 Ok Io non ho soldi Non ho soldi No Non ho soldi Blad Droppami Questa qua Andi Vedo Sivista Andiamo Sto comprando Ma pure se la stanno Giovano molto bene Questo Ah ok Ti avvene No 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 Tieni Tieni Questo Devo fare una flash Però Rischio Ok No 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 Ok No Ok Cazzo Non dite B Non è un appartamento Ok Fanno il casino Ok No Qualcuno venga No Ti ascolta Beccata lui Ok 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 Vai Pavero Si 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 Sto andando a vedere se qualcuno Merda 42 in 3 E 90 in 2 Ok 92 morto Sto spettando il verde Fermo 43 21 Rido penso One in box Blood Attenzione Si Baci Da dietro ai Pavero Non ho manco visto Conta Mi hai detto da dietro e mi sono girato Ma non manco l'ho visto Era CT tranquillo Dietro sta il camioncino Camminando piano 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 Cosa deve fare ninja Guarda Silenzio E' morto Ok Oddio Ragazzi che choco Gli ho fatto ricomprare Ora Ego Ma che è E' una massa Come si è Fermo Che parli 250 Che che vuole la p. 150 Buonasera Ok Andiamo giù da appartamenti andiamo tutti a sinistra no? Comunque ho trovato una fai salve più buona Hatch auto sculato Quero C'è 44 42 E' un appartamento Vabbè la stiamo giocando bene Stiamo a perdere un po' di run Ora però Vabbè muo Stanno facendo gli Hatch auto sculati C'era una giro Tu l'abbiamo ha fatto un Hatch auto troppo random Salva 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 Impossibile faccia Da dietro Sta arrivando Sta arrivando Salve Tutte e due in chiesa Tutte e due in chiesa Ma che a diavolo dai Ma non c'è ascolta Oh Vendo avanti giù Da vp ci stanno Sinistra Beh dai dai Va bene Visto Grazie Eh ma non c'è 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 Abbiamo preso un'arma Gli abbiamo rovinato anche l'economia Ci capiamo qui Ragazzi giochiamo Giochiamo lenti? Ci siamo tutti Ci siamo tutti Cerchiamo di giocare senza la scena Ok ok Come on come on Your job Dove va? Quello? Vado a guardare sopra appartment io Ognuno aiutatissimamente C'è C'è uno sotto lì Raga fanno una missione Rimani via No no Schemi 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 non andortene Eh ma non posso fare nulla io eh Arriva Aspetta vado aiuto a questo poveraccio I dragon smoke mid? Si, stanno arrivando eh Flasciato Arrivano da te papà Una mano io Ah un altro cazzo Mid mid Siamo dal tuo lato secondo me da dietro Oh! Qua guardo io, qua guardo io, non ti preoccupare, guarda dietro Sì vabbè, guardo balcone Il balcone lo riesco a guardare pure io da qua, guardo tutte e due A post Ok è arrivato coso, guardo balcone Ah boom a b Ok giriamo Giriamo da mid, damogli una mano Bella Prende la Vp Puoi trouve evitato Prendete la Vp Puoi trovare ossia ma ho droppato il mio AK ma porco il Dio e il tuo AK? si il mio AK e il mio M4 vabbè rega ho preso il FAMAS non vuoi no 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 c'è il FAMAS vado con 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 il FAMAS un altro un altro un altro un altro un altro sono in eco vado con il FAMAS vado con il FAMAS vado con il FAMAS eh ma che devo fare? si non gli posso andare in faccia via girati niente 70 in dirà lancio il AK più questo bravo power balcone no è no ranked è fortissimo però per essere no ranked è la prima volta? cioè c'ho tipo meno di 30 ore di gioco forse c'è un'alte 30 di ma come cazzo fai ad avere il gettone? il gettone quelli dei 5 anni? perchè l'ho comprato tanti anni fa mi piaceva troppo guardarlo ci ho provato una volta a giocare ma ho detto meglio di no perchè non sono in grado lui era un player di COD come ero io io sono un player di COD su console anche io ero un player di COD un po' cittone però ero comunque player no io su console conta anche io su console sono diciamo a livello professionisting io console e professionisting io ero poi abbandonato tutto mi ero rotto le player pure in est gaming mi avevano fatto l'offerta di un round e ho detto basta raga ehm provo una cosa coprimi mid provo una cosa io invece avevo un clan su COD su ADV che faccio anche un po' un kill come non so cosa e abbiamo tirato in una partita e abbiamo tirato tipo 10 ping stanno rushando B ok non la flash luoto io ok mid non la vedo più sono dietro di loro la bomba è qua sono dietro di loro ah ho capito cosa hanno fatto occhio che vengono a comprare tutti in seconda uno di me da destra pavano delle scale oh che scatti mi sta tirando la gara sta laggando sto laggando sto laggando aiuto aiuto esce da scale aiutatelo qui banana destra destra uno dietro sta fermo sta fermo dipendicelo dietro eh lo sapevo che ce ne eravamo una bomb set io ho sparato ventotino ultimo bomb set da l'ho messo in one shot quello di sua la bomb ancora l'ave? è bene è banana e ha tradotto la net però stessa fa forse non forse ma se la prende non lo vedo ora 1 2 3 95 con 5 colpi 91 con un colpo perchè se hai lasciato eh perchè ho detto lo kill lucky porco 2 ah no il tele il cazzo di sfiga scusate che ho detto vabbè l'ammazzomente la prende capito io lo sapevo che lui se l'aspettava che ero bici nodro cazzo è stato scurato perché ha fatto vai 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 mi fa tenci ottenuto a sinistra a e guarda a destra bello sinistra giù la giù non è con noi non c'è Babi eh appunto vai te scrimi no meno venti e sei hands è andato da appartamenti è andato da appartamenti è andato in Bombs la campereamo questa? si si su inferno è un po' c'è una mappa un po' la disfesa è schiacciante quindi dobbiamo sempre campere ci stanno andando bene i rush e va bene ma mappa si 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 ferito ferito l'altra volta non c'è l'altro con la vista su due su due su due cazzo tu dentro casa tu dentro casa no 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 raga no 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 posso dirvi una cosa? eh no 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 bomba terza please back back no 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 bella bella vabbè dai eccolo 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 proprio si si abbiamo tutti la k per forza cattivi ah ma ti è proprio cattiva luce con il mecca il mecca ma è il problema uno mid mi ha tirato mi ha tirato una nata mi ha ferito ma niente da che guarda entro ok no no tranquillo aspetta fammi stare dietro fammi stare dietro va bene va bene è ferito è ferito è ferito è ferito 26 porco te l'ho ferito pochissimo sono down vabbè a papà tia non è per un po' di oggi nice flucca go baby lp lo piglio io no bella gio raga ora facciamo me to b smocchiamo a destra ok si famo vedere quindi parliamo di a sinistra me to b quindi un me to a non c'ho capo di niente ok ah quindi poi si ah e si fa a oh mio dio a sinistra a sinistra a sinistra destra 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 uno è passato ho le visioni e secondo due dietro due dietro due dietro vai plant 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 c'è chi è ferito l'altro pure da dietro ce la fanno dai sai è è scusa 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 vado dai ho ragione pure da che ce l'avevo dietro volevo killarli e mi raccomando la metto e' in mezzo ben visibile ok che cristo sto facendo da cazzo l'ultimo è quello con la foto che c'è quello con la bella foto e attenti può usare la sua arma di sale vedete culo in faccio peggio peggio si molto peggio portano stagione per la sua cazzo di vita due scosso maio di l'amo mi sa già piatta e negati no non mi ha preso la testa se io sto fa 22 9 9 18 9 18 so il doppio sto fa di ratio 2 0 si rende conto 2 si va beh quello lì ok andiamo dai ma porca puttana non è in fare i colpi ah no si no stai pari a 60 70 in 4 hit ma che dobbiamo andare a cauti adesso no ma com'hai fatto? non lo so com'è stato poi arriva arriva via via da qui via da qui a destra adesso adesso flow in smoke meno 61 in appartamento no c saligio ma perchè vi tenete il gali dal terzo round scusatemi 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 io non avevo soldi abbia il terzo round per round e no porco 2 io farei eco tanti round ce li abbiamo io ho il cash se volete faccio se volete faccio con voi prendiamo a fare un rush b prendiamo a fare un rush b però cauti raga flash smoke smocchiamo city buttiamo le flash e le granati in site però mi raccomando eh sempre con cautela che caccom fa io a me da 6000 mi sono preso prendete la bomba i miti one shot quello dietro 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 ti ho fatto due caffi di headshot due di due due di due ragazze può fare fattibile fattibile andate a andate a per me si perde si ma secondo me una dinarica ce la fate se una dinarica veloce veloce zilo metemi spinge via testa bomba e vabbè davanti te davanti te carriamete vieni intanto sono in b ora beccherà uno tia veloce no però sono troppo nabbi sei mia mamma guarda allora io sto in pit ma ce l'ho accanto lo sapevo due state a destra pure nooo se non di merda abbiamo perso nooo ma regalo ragazzo rom facciamo uno split due banana che fanno stay due in a che fanno stay e uno mi distorio con la qp che faccio stay e bisogna aspettare la kill dove si chiara? ma giochiamo per la piccola esatto quindi bisogna giocare per le file? no sfora onde bisogna giocare per la kill dobbiamo fraggare in uno dei posti che coltito in a o b o m o m o m e d io ti spono frago anti spawn ok dai non fa cazzà la bomba va troppo da qui alla spawn ragazza che dico no 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 l'ha vp ma p- no p- l'ha vp sta in b ma varenda solo eh sto guardando destra eh... full chain guarda destra! sta flencando riso headshot mamma mia l'ho rotto ah abbiamo preso la kill lì 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 andate in via andate in via ma c'è la up tranquilla me la faccio error oh lui si faccio il luffo raga c'è una buppina eh ma per te le va non metto il blocco altrimenti non riesco io penso dopo è la sopra no è la sotto risposta andate in via dai raga un povera in via andate in via vai no silenzio vai la cazzo di bombo vai 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 non c'è andato non c'è andato io ci vado sei un cazzo eh non c'è andato non c'è andato non c'è andato non c'è andato è quello col cazzo di avp non c'è andato era pulito è appunto no era pulita è appunto due monti in più perchè abbiamo perso il round per colpa tua tutti in angio vinciamola dai raga sferi tre round le mancano dai guardando ai balconi eh vai via fammi spazio l'ho fatto l'ho fatto l'ho fatto piate armi piate armi venite gio perchè hai la mia blocco perchè l'ho trovato a te eh grazie eh per lit eh scusami venite uscite 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 venito venito vai 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 dai no sta scappando come te lo fate è tanto l'entrino mia ma come fa a prendermi l'entra e scendo ciao io prendo la vp e faccio poi sei ma chi è? se lì dopo ci chiamo io sto guardando i porno raga dovevo fare la chiusura arrivo ragazza ma perde i drop i round eh sì ok hanno vinto 9 round tra voi 4 l'hanno vinto a culo la vp l'ho visto perchè stai flash ok perchè ti metti davanti perchè tu spari nella smoke raga ascoltate mi rompete le balle peccate vai da power vio no ci penso io qua in via vado io vada ascoltami perchè ti ascolto si va si vai avv pilota dai no non ci pensavi se ma cosa te sto facendo il bordello a me una flash o qualcosa una flash o qualcosa ok dietro la colonna a destra ora esco frito one shot l'altro dietro c'è un cazzo di apure sotto viola ce l'ho sotto viola bravo bravo tranquilli tranquilli fate le kill vai 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 niente io non giro io se mi sparano in 4 onde perché non capisco quale è quello più vicino raga sta messo camale eh raga questi quadri non può giocare veloci siamo lenti in appartamento non si sta tanto tempo siete stati sette anni provate a fare la smoke mid flush arrow e rushiamo mid smoke la parte sinistra facciamo mid 2 uno che flash attiva fai la flash son di dei ok però non mi fermate eh io sto con la smoke in mano guardare devo fare la smoke la flash in pit c'è la vp ok uuuuh guardatevi vai è smoccato è il mio compito oh ma non è una mid madonna vabbè raga mhm dovete smoke a sinistra o a destra eh vabbè è uguale no no perchè devo fare mid 2 a eh è uguale ok vamo screaming che la persona in abbi porco dio ho morto pure vitto ma è cacchio stavo picciare rotto vero a tutti lui se li fa so e carico bisogna mano c'è una vp l'ultima non è morto la sinistra era mid non è morto fai fake plant non è blando a bosco dietro va bene no 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 ah ma c'è la vp lo sapevo che aveva la vp ecco lo sapevo che aveva la vp c'è una vp porco due raga stiamo giocando male raga scusatevi giuro non pensavo ci avesse la vp c'è un po' proprio sono tranquillo la troi ma che ho comprato tranquillo e qua va bene va bene no 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 dai raga devono comprare andiamo 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 ragazzi deve vincere eh perchè compri la cappa che non hai niente soldi per il kevlar c'è il kevlar no c'è il kevlar quello non da mille si che c'ho quello da mille beh tranquillo pensa a te l'avevo già comprato quando tu mi hai visto con i soldi io l'avevo già comprato riesci a flashare e poi gli push addosso? ha lo smocco aspetta flashato guardo destra togli il tuo posto destra odio scusa odio scusa one shot vabbè che copre il dietro ok la vp è qua a sinistra c'hai qualcosa della vp? no merda devo stare attento eh vabbè ferito guarda a sinistra guarda a sinistra bravo c'è la vp arrivo bella è morto? no c'è c'è stallino usci che te fa? i am setting the bomb smoke bomb has been planted dai povere che ti aiuto usciamo indosso tutti in due ok? vai non c'è bisogna andare ok non c'è sono andato a beccare l'ho fatto un bel round questi due sono fortissimi però non è vero bisogna giocarcela bene vediamo raga nct poi mid povere guardate i dinero no 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 non c'è il mid c'è stato il mid non perde gli altri fermi meno 50 non ho perso di più salva 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 volate run meno 50 per subito devo runnare qua ma perchè hai scritto save per l'astrazione? così almeno ci provavano ha visto? dai dai ok ehm e fra un minuto devo andare dai vinciamola su chiudiamole via ma andiamo la chiudiamo sta partita andiamo a b rush di rush aggressivi go però prega nessuno si deve fermare chiunque muore qualunque flash qualunque niente sempre correte dritti come dei treni esatto mi tirate una flash corre scusami 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 te l'ho flashato smocco smocco vai 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 rega ora io passo vai veloci vai 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 CT sight 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 con la vp ah porco dio la vp non l'ho preso è la dietro sta mirando dove sono morto e dove sono morto io sta tornando indietro ora sta guardando il bomb sight è lì bravo ok let's go siamo tutti dietro bravi bravissimi cazzo CT nooo 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 forse era venuto con la vp che c'ha navi eh sì lenzia mi pushasse gli ho fatto 69 che famo? forse buy per forza compra 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 io non posso comprare rega che è una red tech 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 che vince questa sì 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 dai dai non stai capo questo frenando invece sì no beh mo li scopriamo a quelli mid mo li scopriamo veramente spesso il palito si è il palito si è il palito inattanto si perde sempre non è vero prima abbiamo vinto prima lascio io per primo eh dava di no arca droia scusa ma riflesso come viene arrivo su la destra preso uno let's go vi andiamo vai grande power va dietro a destra ma mira questo è fortissimo oh ma non muori mi spieghi quando gli ha levato io non gli ho tolto niente c'ho due uno di pusha uno di pusha l'altro a sinistra un altro io levato 84 all'ultimo un'arma un'arma è lì davanti c'è la k c'è la davanti dia meno 84 questo meno 12 dai let's go let's go chiudiamola cazzo bravo avevo fatto quel push aggressivissimo cazzo abbiamo fatto un'azione che è paura assurda dai bella paura venite fa si muoviti muoviti fanno tutti in A secondo me ora ora facciamo una kill e rudiamo in B raga facile una kill e se ruota in B pure se arriviamo davanti ad A c'è la B p se c'è la B p bene dici mid ho fatto un'entato eh fatta fatemi una parta c'è la stun mid? una parta non c'è una parta aspetta aspetta che si leva la smoke aspetta che si leva la smoke fattati i fattati fai una stun qualcosa da tirare? one shot one shot one shot one shot fattati di merda per un no rank dai che la prima non mi sono riscaldato mi piace